Andrea Pinamonte, toasse 99, attaccante dell'Inter, è lui la prima punta del momento, quantomeno per i nerazzurri. 17 gol in 33 gare, giocate lo scorso anno tra campionato primavera, allievi nazionali Serie A e B e soprattutto nazionale. Ha guidato infatti l'attacco azzurro negli ultimi europei, con la formazione di troccanto realizzando 3 gol in 4 partite, ma non solo reti per il numero 9 dell'Inter, soprattutto utile in fase di ripiegamento e come prima punta agisce anche spalla alla porta, servendo qualche volta ai compagni per un'azione davvero fantastica. Vediamo le azioni del numero 9 nerazzurro. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Patagonista anche in ultime finalità, lievi nazionali Serie A e B, dove in quel di Cesena e di intorno, in 5 partite giocate, ha realizzato 3 gol, 2 per un su calcio di rigore. Per Andrea Pinamonti il futuro sarà sicuramente roseo, sia con la primavera di Stefano Vecchi, ma anche e soprattutto con la prima squadra di Roberto Mancini. Non a caso portato in ritiro, non saremo sorpresi se durante la stagione, più di qualche volta, lo vedremo a San Sino con quanto meno. Di Sino, sui capi di Serie A. Grazie a tutti.